Evento Apple, 8 marzo. Andiamo a vedere cosa presenteranno. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare, come al solito, vi chiedo un piccolissimo supporto. Iscrivetevi cliccando il tastino rosso, attivate la campanellina e lasciate un bel like, dato che siete solo il 10% che siete iscritti al canale e allo stesso tempo guardate i miei video. È gratis, quindi non vedo il perché, non dovreste farlo. In ogni caso, adesso partiamo col video. Cosa vedremo l'8 marzo 2022 all'evento Apple? Beh, primo fra tutti è stato rilasciato qualche cosina, insomma, ci sono tanti leaker che danno piccole informazioni qui e lì. Io vado a raccoglierle tutte e a portarvi un video qui dedicato. In ogni caso, primo fra tutti dovrebbe essere iPhone SE di terza generazione. Vediamo la terza generazione di questo dispositivo. Come sapete, sicuramente, per chi mi segue da un po', io sono stato un utilizzatore, un amante di iPhone SE di prima generazione che purtroppo è diventato un po' obsoleto. E dico un po' perché comunque continua ad essere aggiornato agli ultimi firmware, quindi è comunque un dispositivo che ritengo ancora nella line-up di Apple. In ogni caso, questa terza generazione dovrebbe essere dello stesso design della seconda, ovvero quella di iPhone 8 per intenderci, e dovremmo vedere tanti piccoli aggiornamenti, non sotto il punto di vista estetico, bensì sotto il punto di vista del processore, delle componenti che lo costituiscono. Vedremo infatti un nuovo chip dedicato che darà la possibilità a questo dispositivo, darà nuova vita, nuova linfa vitale, in modo tale da farlo durare più a lungo. E oltre al chip, vedremo finalmente arrivare il 5G, che qui in Italia non è ancora molto diffuso, ma in ogni caso è una feature che sicuramente arriverà in futuro, e io ritengo che iPhone SE sia un ottimo dispositivo, un ottimo investimento per un utilizzo sia attuale, ma anche futuro. Oltre a questo, ovviamente, non può mancare, dato che Apple nell'ultimo periodo sta puntando moltissimo in quella direzione, un aggiornamento delle fotocamere, che ritengo possa essere un'opinione mia personale, e che ritengo possa essere quella classica, standard, 1x di iPhone 13. Il suo nome dovrebbe essere iPhone SE 5G. iPad Air. Anche per lui dovremo vedere un piccolo aggiornamento, non sotto il punto di vista del design, dell'aspetto estetico, in quanto l'abbiamo visto non troppo tempo fa. E quindi Apple decide anche su questo modello di andare ad aggiornare quello che è il chip, la fotocamera e il supporto al 5G. Dovremmo vedere un aggiornamento anche per quanto riguarda il Mac Mini, dispositivo che è strautilizzato, dispositivo che è diventato super famoso, super importante nella line-up, in quanto dispositivo entry-level di tutta la gamma dei Mac. In ogni caso è un device estremamente interessante, in quanto al momento monta un chip M1, non sappiamo di quale chip verrà aggiornato, come verrà aggiornato con precisione, ma sappiamo che in ogni caso un aggiornamento per questo dispositivo dovrebbe esserci quasi al 100%. C'è chi dice che potrebbe esserci un redesign del modello, rendendolo un po' più snello, e probabilmente con un materiale, dicono essere un po' tipo il plexiglass. Dubito in quanto Apple cerca di utilizzare dei materiali sempre super pregiati per i suoi dispositivi, e quindi dubito che vedremo un materiale plastico su un dispositivo del genere. Ma probabilmente una finitura lucida potrebbe essere una delle opzioni. In ogni caso c'è anche chi pensa che il dispositivo possa essere upgradato, nel senso che potrebbe crescere di dimensioni ad arrivare fino a una dimensione di 3-4 Mac Mini impilati. E non credo che Apple farà una scelta del genere in quanto il Mac Mini è un dispositivo che è estremamente portatile per quanto non sia dotato di display, mouse e tastiera. E quindi ritengo che possa essere un dispositivo, anzi un upgrade, davvero interessante per andare ad aggiornare, ad avvicinarsi a quelli che sono i Mac Pro. Per quanto riguarda il prossimo dispositivo che probabilmente presenteranno, io mi chiedo, è possibile? Io ho qualche dubbio, infatti non credo che vedremo questi dispositivi presentati adesso, ci sono dei leaker che invece suppongono che siano presentati proprio nell'evento dell'8 marzo, ma io non credo. In ogni caso vedremo e lo scopriremo, vedremo chi effettivamente aveva ragione. Voi fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, dato che è assolutamente gratuito. In ogni caso stiamo parlando del MacBook Pro. E sì, li abbiamo visti aggiornati l'anno scorso, appena l'anno scorso, con i nuovi chip M1 ed M1 Max. Ma c'è chi dice che potrebbero essere aggiornati la versione, quella classica, quella che è rimasta in vendita con il chip M1 e potremmo vedere un chip M2. In ogni caso lo stesso leaker che parla di questo parla anche dello stesso chip che verrà utilizzato sul Mac Mini. Quindi non so, non so se vedremo questi nuovi chip, non so se vedremo un aggiornamento del chip stesso su un Mac che ormai per quanto riguarda il design è un po' obsoleto, ma mai dire mai. Dico che Apple effettivamente potrebbe non farlo perché dovrebbe andare ad utilizzare anche per quanto riguarda il design del monitor uno stile obsoleto ormai per quanto riguarda i modelli della line-up Pro e quindi ritengo che potrebbe più puntare ad un aggiornamento sui modelli Air in quel verso. Passiamo però a parlare dell'evento di giugno. Voglio fare qualche piccolo appunto di probabilmente rumors che saranno interessanti per quell'occasione. In ogni caso stiamo parlando dell'iMac Pro, dispositivo che è stato super amato, l'hanno utilizzato in tantissimi, è un dispositivo super performante e che dava la possibilità a un professionista che aveva bisogno di una determinata potenza di poter utilizzare e sfruttare un device che in ogni caso aveva tutto all'interno di un singolo prodotto. Mouse, tastiera, monitor, insomma un dispositivo super completo. In ogni caso dovremo vedere un piccolo aggiornamento o meglio un grandissimo aggiornamento a giugno ovvero un cambio di design molto più vicino a quello che è l'iMac attuale che è in produzione, quello classico, delle varie colorazioni insomma e in ogni caso dovremo vedere una colorazione dedicata solo per la versione Pro come vediamo per tutti gli altri modelli. Dovremmo vedere anche i nuovi chip dedicati a quel determinato modello. non si sa se monteranno il chip M1 Pro ed M1 Max oppure vedremo, cosa che io non credo in quanto Apple ha lanciato l'anno scorso gli M1 Pro ed M1 Max, gli M2. Non credo che siano ancora pronti e soprattutto credo che Apple si tenga la chicca dell'M2 per qualche dispositivo molto più interessante e soprattutto che può portarli su tutti i dispositivi. Su questo dovremmo vedere anche il ProMotion a 120 Hz e il monitor mini LED. In ogni caso questi sono tutti i rumors, tutte piccole cose, piccoli puzzle che mettiamo pian piano insieme, incastoniamo fino ad arrivare al giorno stesso della presentazione. Voglio accompagnarvi ogni settimana con un video del genere dove appunto vi parlo di tutti quelli che sono i rumors relativi al mondo della casa di Cupertino ogni singola settimana, tutti quelli nuovi, interessanti, ve li riacchiudo tutti all'interno di questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti se il video vi è piaciuto iscrivetevi, attivate la campanellina e lasciate un bel like io però vi saluto e noi ci vediamo in un prossimo video sempre qui sul mio canale YouTube. Grazie a tutti.